Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee Persone. Benvenuti ad un'altra puntata speciale di Insieme Idee Persone. Siamo qui presso un albergo, facciamo anche pubblicità, Anthony Palace di Marcon, per un convegno nazionale per tutti gli autonomisti, federalisti e indipendentisti d'Italia. Vado subito a presentarveli, naturalmente i temi di cui parleremo saranno esclusivamente autonomisti. Abbiamo qui Massimo Morettuzzo, consigliere regionale patto per l'autonomia del Friuli Venezia Giulia. Benvenuto Morettuzzo. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, poi abbiamo Emiliano Racca, segretario del Comitato Autonomia Piemun. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Poi abbiamo Roberto Agilmo, che è il vicepresidente patto per l'autonomia del Veneto. Come sempre, via San Marco a tutti. Poi ancora Luca Azzano Cantarutti, Uni College Firenze, nonché presidente del patto per l'autonomia Veneto. Buonasera, anche da parte mia. Buonasera a tutti. Poi ancora Alfredo Gatta, pro Lombardia Indipendenza. Grazie, buonasera a tutti. E infine, da ultimo ma non per ultimo, Gianangelo Bellati, in veste di economista questa volta. Buonasera a tutti. Benvenuti a tutti. Ecco, prima di entrare nel vivo della puntata, sicuramente gli argomenti indipendentisti oggi affascinano la politica nazionale. Molto spesso si parla dell'esigenza di salvaguardare le identità territoriali e per la prima volta c'è la possibilità di convergere su argomenti condivisi e argomenti comuni più movimenti autonomisti d'Italia. In questo sforzo sicuramente possiamo chiedere al vicepresidente Roberto Agilmo il senso di questa riunione straordinaria nazionale. Grazie, Lovino. Allora, partiamo da un presupposto fondamentale. L'obiettivo che ci siamo posti come patto per l'autonomia Veneto è un obiettivo abbastanza alto. Abbiamo alzato l'asticella sicuramente. Il nostro core è nato come indipendentisti, ma siamo sostanzialmente dei razionali e dei pragmatici per capire che oggi sbandierare la bandiera dell'indipendenza, quantomeno in Veneto, sia qualcosa che, diciamo, eufemisticamente possiamo dire difficile da raggiungere. Proprio per una questione di pragmatismo abbiamo deciso di intraprendere un percorso di contatto e di collaborazione con il maggior numero di movimenti, partiti, che si rifacciano a quello che è il core comune a tutti, ovvero sia l'autogoverno delle proprie zone territoriali. Sulla base dell'autogoverno, quindi sulla base di un principio comune che accomuna tutti questi movimenti, che siano autonomisti, che siano federalisti, che siano indipendentisti, siamo già partiti tempo fa con gli amici del patto per l'autonomia Friuli-Venezia-Giulia a creare un qualcosa di assieme e cerchiamo di collaborare in questo. Ma con questo convegno è partita un'idea, è partito un progetto che possa trovare la sinergia e la comunione di intenti tra vari movimenti per arrivare a un domani, magari, che veda nelle diversità un'unione per arrivare a qualcosa di importante su base statale. Ricordiamoci, non ho detto nazionale, ho detto statale. C'è una bella differenza, non da poco. Bene, allora magari passiamo il microfono all'Avvocato Cantarutti. Allora, Presidente, che posizione prende il patto per l'autonomia Veneto e per le prossime elezioni? Entriamo un po' più nel dettaglio, visto che ormai manca una settimana all'evento. Manca una settimana alle prossime elezioni europee. Abbiamo fatto un ragionamento, sempre in funzione di quello che vuole essere la creazione, la costituzione, di un rassemblemento, di un gruppo che vada oltre i confini del Veneto oggi. Bene, allora, Avvocato, lasciamo pure il microfono al Dottor Bellati, perché poi sappiamo che ha degli impegni improrrogabili. Ecco, quindi, Giannato Bellati, adesso le faccio una domanda un po' particolare, poi magari andremo a presentare anche gli altri ospiti. Allora, si parla molto spesso, la querella riguardo all'autonomia del Veneto è stata controbattuta a livello nazionale, come i Veneti si vogliono tenere i soldi, la distribuzione delle ricchezze, alla fine sembra effettivamente come un problema economico. Però, al di là di questa valutazione, che può essere fatta a seconda dei punti di vista in maniera antitetica, cerchiamo di approfondire l'aspetto economia-efficienza di un'autonomia. Quali sono i vantaggi di un governo autonomo? Beh, diciamo questo, che ci sono sicuramente delle resistenze, perché noi dobbiamo pensare a quanta gente oggi sta approfittando degli sprechi di denaro pubblico nel Paese, perché penso che tutti noi, insomma, stiamo tutti lavorando tanto, ci stiamo dando da fare, abbiamo ottime aziende nel Paese Italia, eppure vedete che il debito pubblico aumenta, non diminuisce. È un grande problema anche per tutto il resto dell'Europa, eppure, nonostante questo, appunto, ci troviamo in difficoltà finanziarie, economiche. Quindi vuol dire che c'è qualcuno che ne sta approfittando. C'è gruppi di interesse che stanno impedendo che si stia realizzando non le indipendenze. Stiamo parlando dell'autonomia, come prevista dalla Costituzione, nulla di più, trasferimento di competenze. Inoltre, l'altra cosa curiosa è che questo trasferimento di competenze non è che necessariamente imponga che lo Stato perda dei soldi. Si tratta semplicemente di trasferire competenze dal centro alle regioni che ne hanno fatto richiesta. Quindi questo non va a toccare quello che noi abbiamo definito ancora tanti anni fa, come insieme con la regione del Veneto, quello che è il residuo fiscale. Il residuo fiscale, che è quella parte delle tasse che da una regione va ad un'altra regione per aiutarla o va al Paese, non viene intaccato e, nonostante questo, hanno paura che si realizzi questa piccola forma, diciamo, quella di autonomia per la quale si sta combattendo. Io faccio solo questa ultima, brevissima riflessione. Quindi non siamo di fronte ad una rivoluzione, perché stiamo parlando di trasferimento di competenze. Quindi nulla di così rivoluzionale previsto dalla Costituzione. Questa cosa di cui stiamo dialogando, di cui stiamo parlando, non si sta attuando. Questa è purtroppo la situazione attuale. Qualcuno sta prendendoci in giro, perché ancora non si riesce ad attuare un bel nulla. Ecco perché è importante questo tentativo innanzitutto di avere un partito veneto territoriale. Perché come si fa ad avere dei partiti nazionali che non sono strutturati in maniera federale al loro interno e poi dopo anche ci dicono che vogliono l'autonomia. È impossibile. È una contraddizione nei termini. Quindi ci vuole un'organizzazione politica territoriale. La seconda cosa positiva è che una volta che si superano le divisioni a livello della nostra regione e di altre regioni abbiamo finalmente un partito territoriale, che i partiti territoriali vadano d'accordo tra di loro. E credo che l'esempio di oggi, i vari rappresentanti che noi abbiamo qua, dimostrino che c'è questo tentativo finalmente di unire tutte le anime dell'autonomia per finalmente avere che cosa? Un'Italia moderna, un'Italia efficiente, un'Italia che supera i nazionalismi. Bene, ecco, vorrei chiedere un approfondimento, dottor Bellati, ma che vantaggio ci sarebbe per le aziende private italiane con l'autonomia, secondo lei? Ma guardi, noi abbiamo quantificato, e ci sono tutti gli studi su questo, abbiamo quantificato in circa 30 miliardi di euro anno il vantaggio che tu hai dalla realizzazione dell'autonomia. Ci sono molte ragioni, ci vorrebbe un po' di tempo, ma ce n'è una in particolare. Tu responsabilizzi i livelli di governo. Quando noi parliamo, per esempio, di federalismo fiscale, noi parliamo di una cosa che c'era anche durante l'epoca fascista. Io lo continuo a dire che le tasse locali, durante l'epoca della dittatura, c'erano le tasse locali, sono state eliminate negli anni 70 dai governi repubblicani post Seconda Guerra Mondiale. Quindi il federalismo fiscale, diciamo, è un sistema di riportare le tasse a livello locale in maniera tale che sia controllabile l'amministratore che riceve tot denari di tasse e ne spende poi di più, deve esserci un warning, un allarme rosso, che dice che quello sta lavorando male. Questo sistema oggi non c'è. Con le autonomie tu hai finalmente questa possibilità. Allora, se qualcuno non vuole controllare la spesa che vada fuori controllo, come succede in tanti comuni, in tante regioni italiane, vuol dire che quel qualcuno è un sistema potente che ci sta guadagnando dagli sprechi di questo paese. Benissimo. Ecco, allora ringraziamo il dottor Gianangelo Bellati, so che ci deve lasciare, quindi buona continuazione per i suoi impegni. E adesso invece lasciamo la parola a una brevissima presentazione, quindi cominciamo da Massimo Morettuzzo. Ecco, ci vuole un po' parlare del suo movimento, Morettuzzo, quali sono le caratteristiche e come vi posizionate nel panorama politico ed economico locale. Sì, il patto per l'autonomia del Friul-Venzia Giulia è nato poco più di un anno e mezzo fa. Erano gli ultimi giorni di dicembre del 2017 ed è nato principalmente da un gruppo di amministratori locali, sindaci come ero io in un piccolo comune di 2600 abitanti a pochi chilometri da Udine, che in qualche modo erano stanchi di dover sentire sempre le solite tiritere da parte di quelli che noi chiamiamo Sorrestans in Friulano, quindi quelli che stanno sopra, nei piani alti, che ci dicono che non è possibile gestire le cose in modo più snello, che non ci sono le risorse per i comuni, per gli impiegati, tecnici, insomma, dei territori, che la sanità che Friul-Venzia Giulia nel nostro caso gestisce in modo diretto fa sempre più fatica ad andare avanti perché le risorse non ci sono. E in qualche modo a un certo punto abbiamo detto che a prescindere da quelle che erano le sensibilità ideologiche, di appartenenze politiche, insomma, di chi faceva parte di questa rete di amministratori, era importante dare un segnale e individuare una chiave di lettura nuova rispetto alle tematiche che oggi hanno a che fare con la quotidianità dei territori, dei cittadini e questa chiave di lettura è quella dell'autonomia, a nostro modo di vedere. Cioè il fatto che oggi le sfide della complessità globale, della globalizzazione economica, delle trasformazioni forti che ci sono dal punto di vista anche dei rapporti fra i vari livelli di istituzioni, è una sfida che va interpretata appunto con le chiavi dell'autogoverno. E quindi crediamo che sia importante lavorare a quel partito territoriale che veniva citato in precedenza, che vuol dire nel nostro caso dare compiutezza finalmente a un statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia che ha fatto fatica a nascere nella Repubblica Italiana perché insomma è nato nel 63 dopo un bel po' di anni perché c'erano delle questioni anche storiche legate al confine orientale insomma importanti e che oggi deve essere appunto portato a compimento. Ci sono almeno un paio di questioni di fondo molto velocemente. La prima legata al fatto che l'autonomia ha bisogno delle risorse necessariamente. Quindi le forme di autogoverno non ha bisogno di avere le risorse necessarie per funzionare, cosa che nel nostro caso non c'è almeno da un decennio perché quella che viene definita di fatto la rapina da parte dello Stato alle casse del Friuli-Venezia Giulia ci ha tolto oltre il 25% del bilancio della regione per una regione che si gestisce la partita della sanità ad esempio è una cosa molto molto importante. L'altra è quella di dire che ci sono delle sfide legate anche ai temi dell'economia che possono beneficiare dello statuto di autonomia. Una delle questioni fondanti è quella dei lavori pubblici. In un momento storico dove la crisi economica nel nostro territorio ha picchiato in modo molto forte dire che gli appalti pubblici possono essere gestiti in modo snello, diretto da parte degli enti locali può portare davvero a una serie di benefici molto molto importanti tutelare il mondo delle piccole e medie imprese che nelle dinamiche altrimenti del mercato globale rischiano di essere penalizzate. Questo ha a che fare anche con un nuovo modello di sviluppo locale. I temi dell'ambiente, dei cambiamenti climatici possono essere affrontati con delle sfide che hanno a che fare con i temi dell'autogoverno. Benissimo, allora prima di passare poi il microfono all'Emiliano Racca che è segretario del Comitato di Autonomia Piamun e un piccolo stacchetto pubblicitario. un piccolo stacchetto pubblicitario. Grazie a tutti. 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 il movimento che raggruppa le varie movimenti autonomisti a livello europeo. Parlo della sinistra repubblicana catalana, piuttosto che lo Scotti National Party. Benissimo, ecco abbiamo qui con noi, è arrivato da poco come potete vedere, Pietrangelo Petteno, che è della sinistra veneta, giusto? Ci conferma, si vuole presentare brevemente? Sì, sì, mi presento anche perché sono venuto a questo seminario interessantissimo per capire, insomma in qualche maniera anche i sentimenti che muovevano chi l'ha ispirato e anche conoscere molte altre realtà. Io appartengo culturalmente, come molti di noi, a una tradizione della sinistra che ha sempre sostenuto l'autogoverno dei popoli, l'autodeterminazione. Se abitassi in Spagna, in Catalonia sarei sicuramente parte di quella sinistra catalana che ha fatto quello che sappiamo in questi anni, nei Paesi Baschi oltre allo stesso, saprei da che parte stare, in Italia c'è sempre invece un po' di confusione, nel senso che ho militato in un partito comunista, ho fatto 15 anni in consiglia regionale e ho tentato in qualche maniera, assieme ad altri nel Veneto, di portare avanti quella che era un po' l'idea federalista e di autonomia, ispirandosi ai principi di Silvio Trentin. Silvio Trentin, appunto l'ispiratore di un'autonomia, un federalismo antifascista, solidale, che in qualche maniera faceva sì che quell'autonomia contro lo stato fascista, centralista, quindi di quell'epoca, o in qualche maniera potesse invece rispondere con un'autonomia e l'autogoverno dei popoli, dei cittadini, quindi la responsabilità dei cittadini in qualche maniera che voleva dire è più democrazia, per cui per me e per molti di noi federalismo e autonomia vuol dire più democrazia, vuol dire più senso di autogoverno, vuol dire più responsabilità di cittadini nei territori e questo è il senso che ho avverto anche di una necessità in questo nostro paese di rovesciare questo cliché di uno di principi di partiti che definire nazionalisti è perfino troppo, sono partiti che si pongono l'idea solo di sopravvivere a se stessi in una crisi degli stati nazioni, che mi pare evidente, e dentro invece una logica di un rafforzamento di un'identità europea, cioè con l'Europa, si dice sempre l'Europa delle regioni, mi piace più l'Europa dei popoli, cioè l'Europa in cui in qualche maniera i popoli che si autogovernano fanno parte di una dimensione, come diceva Silvio Trentin, necessaria e quindi poi i padri fondatori dell'Europa successivamente hanno messo in piedi quella che è in crisi oggi ma che invece va rifondata proprio in questa versione, per cui più autogoverno, più autonomia nei territori, dentro una dimensione europea che ci unisce tutti. Benissimo, ringraziamo allora Pietrangelo Petteron con la sua testimonianza, adesso chiediamo alla nostra Stefania di prendere il microfono e di portarlo ad un ospite del pubblico che vuole fare una domanda, prego allora. Buonasera a tutti, sono Alberto Montagnere, sono presidente dell'Associazione Culturale Veneto Nostro, meglio conosciuta come Raise Venete e anche io partecipo a questi congressi con molto piacere, ho ascoltato attentamente tutti gli interventi, mi fa piacere vedere una certa trasversalità sia da un punto di vista ideologico che abbraccia i valori migliori sia dalla destra che dalla sinistra e anche dei vari territori e altre associazioni e movimenti con cui anche noi da anni abbiamo avuto contatti. La mia domanda, adesso non saprei a chi porla, la pongo un po' a tutti o a chi ha voglia poi di rispondere. Qui stiamo parlando di autonomia, però l'autonomia è sempre, viene concessa dallo Stato, dallo Stato centrale, viene concessa. Per cui l'autonomia è un passaggio obbligato. Poi andiamo avanti con altri obiettivi perché non vorrei che l'autonomia fosse quella fermata di quell'autobus chiamato Desiderio. La nostra associazione si pone soprattutto da un punto di vista, ripeto, culturale e identitario. Noi guardiamo al passato per imparare, per andare meglio, capire chi siamo, andare meglio avanti perché parliamo sempre di persone e secondo me le persone prima devono dire io sono, prima di dire io voglio. Per cui una volta che qualcuno ha l'identità sa chi è, sa chi era e sa dove deve andare. Per cui ecco la domanda è un po' ribaltata da un punto di vista identitario più che non economico perché poi tutti hanno il loro prezzo. Per cui dobbiamo stare attenti che gli avversari non rilanciano però, ripeto, cerchiamo di guardare ben oltre. Bene, allora grazie di questa testimonianza. Stefania, allora prendiamo il microfono e lo diamo all'Avvocato Cantarutti che risponde al nostro gradito ospite. Prego, Avvocato. Intanto ringrazio Alberto Montagnier per questa domanda che ci consente di mettere un pochino i puntini sulle I. Noi prima di tutto vogliamo garantire alla nostra gente di stare meglio possibile, di raggiungere quei livelli di benessere, quei livelli di armonia con anche il proprio ambiente e con la propria società che finora ci sono stati negati. Ossia l'autonomia o anche l'indipendenza non sono altro che strumenti per consentirci di stare meglio. Ora, in questa fase storica tutti noi sappiamo perfettamente di essere, di appartenere a una ben precisa identità storica, culturale, identitaria e su questo credo che tutte le persone che sono qui, a prescindere dalle proprie collocazioni geografica o politica o ideologica, siano assolutamente concordi. Mi permetto di dirlo anche a nome degli altri, però dobbiamo anche tenere ben presente che non possiamo vedere l'autonomia o piuttosto l'indipendenza come un totem. Oggi l'autonomia è la questione che è posta sul tavolo della discussione politica e riteniamo che doverla raggiungere sia veramente un primo obiettivo per tutti. Dopodiché anche nel nostro simbolo c'è la parola, mi permetto di indicarla, autogoverno. Ossia saranno i Veneti, saranno i Lombardi, saranno gli amici piemontesi e friulani che decideranno e dovranno decidere qual è il loro desiderio, qual è il loro preciso obiettivo. Io personalmente in cuore ne ho uno ed è abbastanza noto, ma non spetta a me decidere, spetta al nostro popolo, alla nostra gente. In questo momento, ripeto, autonomia è l'obiettivo che ci può consentire di stare meglio, di superare una fase storica, economica, sociale molto difficile. E attorno a questo obiettivo, non ad altri, attorno a questo obiettivo si è coagulato un consenso assolutamente trasversale di 2.300.000 Veneti che vanno dal Partito Comunista a Casa Pound, cito forse le due estremità dello schieramento politico, o dalla sinistra a Veneta a Casa Pound, perché viene visto come un valore, uno strumento condiviso. Poi, raggiunto quello, staremo meglio e in quel momento successivo vedremo quale sarà l'obiettivo ulteriore che eventualmente si può pensare di raggiungere. Sì, anzitutto grazie della domanda perché è veramente intelligente e interessante. Anch'io sono d'accordo con l'Avvocato Cantarutti che l'autonomia e l'autogoverno certamente è una priorità perché ci consentirà di vivere meglio. Chiaramente, in un'ottica di riassetto dell'Europa, l'Europa delle regioni e dei popoli non sarà un'Europa di meri organismi amministrativi, economici, senza identità. Certamente l'Europa delle regioni è un'Europa di nazioni culturali. Gli stati erano soltanto dei piccoli imperi, i vecchi stati ottocenteschi, ma non sono assolutamente delle comunità identitarie, non sono assolutamente delle nazioni culturali. E noi ci siamo subito mossi in quella direzione lì, cosa che era mancata fino adesso in Piemonte. Anzitutto, le riunioni del comitato sono quasi tutti in madrelingua piemontese. La comunicazione in parte è in lingua piemontese, provenzale, francese, che sono lingue ufficiali, il piemontese non tanto, non riconosciuto, ma comunque che è una lingua millenaria, orale, scritta della nazione piemontese. La nostra idea che proporremo subito è quella appunto di un patto di pacificazione oltretutto tra le varie culture del Piemonte, da quella provenzale a quella arpitana, a quella valsera, a quella piemontese, proprio per creare maggiormente un senso di identità comunitario e di coesione sociale. Benissimo, ringraziamo allora il nostro ospite Emiliano Racca, che ci lascia, perché ovviamente rimanga pure seduto, che così ci lascia, perché ovviamente arrivare fino in Piemonte ci vogliono tanti chilometri. Però adesso lanciamo un altro stacchetto pubblicitario, mi raccomando rimanete con noi, perché gli argomenti sono molto interessanti e direi anche attuali. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. valutiamo. Zaia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.